TikTok potrebbe essere messo al bando negli Stati Uniti e dopo questo potrebbe essere messo al bando anche in Europa è uno scenario che non dobbiamo considerare lunare tanti gongoleranno, penseranno che bello è la fine dei balletti che ce ne frega di TikTok alla fine era un'applicazione dove si facevano soltanto stupidaggini conosco i miei polli e so che il mio pubblico ha un'età media abbastanza elevata e quindi non necessariamente ha compreso le implicazioni di un'applicazione come TikTok o in generale del mondo del web quindi mi perdoni chi sa perfettamente come stanno le cose ma lasciatemi solo un secondo per spiegare che questa è una cosa molto importante non so infatti se ve ne siete resi conto ma oggi il digitale è il nuovo mondo più del 70% degli investimenti pubblicitari globali infatti oggi avviene sul web significa che le aziende comprano pubblicità su internet per vendere i loro prodotti e qui mi riferisco alle aziende vere, quelle che tutti capiscono che hanno un valore perché ehi ci sono gli operai dentro che con il sudore della loro fronte costruiscono cose vere che si possono toccare ecco queste aziende che vi piacciono molto, giustamente, vendono i loro prodotti grazie ad applicazioni come TikTok, Facebook, Twitter, Google, YouTube eccetera eccetera quindi questa è l'economia reale ora capite quindi che non si tratta di balletti si tratta di soldi, soldi veri quelli che vengono utilizzati per pagare gli stipendi a tutti i dipendenti di un'azienda al management, agli operai, ai quadri intermedi, a tutti ma non è solo questo, non è solo questione di pubblicità bisogna dire anche che TikTok come tante di queste altre applicazioni ormai fanno da tramite per la compravendita di beni e servizi quindi si acquistano direttamente prodotti di aziende terze attraverso queste applicazioni quindi di fatto fanno da marketplace e oltretutto permettono a nuove aziende di nascere sia nuove aziende che vendono i loro prodotti tramite la pubblicità su questi sistemi sia aziende come posso essere io che nascono su progetti che trovano ospitalità su questi canali web ora io sono piccolo se YouTube scompare semplicemente io devo fare un altro mestiere ma pensate che ci sono aziende che hanno anche molti dipendenti facendo la stessa attività che faccio io quindi capite che da queste applicazioni non dipendono soltanto i balletti di vostra cugina o di vostra nipote ma c'è un intero mondo economico che poi è quello in cui tutti noi siamo immersi che vi gira attorno ora che cosa è successo? che gli americani hanno inventato questo mondo digitale Facebook, Twitter, Google sono tutte piattaforme americane se ci pensate voi oggi siete in contatto con i vostri compagni dei tempi delle superiori tramite Facebook piattaforma americana cercate moglie tramite Tinder piattaforma americana cambiate lavoro cercandone uno nuovo su LinkedIn piattaforma americana cercate informazioni con Google ovviamente motore di ricerca americano e così come state guardando questo video su YouTube piattaforma americana ogni quasi nostra attività che ha una implicazione economica passa attraverso una piattaforma americana non a caso infatti c'è una guerra di attrito anche tra l'Europa e gli Stati Uniti l'Europa sta progressivamente applicando sempre maggiori restrizioni e non solo anche multe molto spesso arbitrarie a queste piattaforme perché questo è il suo modo di difendersi consapevole di essere rimasta indietro di decenni e di non avere nessuna piattaforma digitale l'Europa pensa che bucare il pallone altrui le consenta di subire meno questa egemonia americana beh non andrà così ma questo è l'argomento per un altro video eventualmente adesso concentriamoci su TikTok il problema di TikTok è che è di un'azienda che si chiama ByteDance la quale nonostante in realtà abbia la sede legale alle Cayman è stata ideata e fondata da un cinese il quale ne detiene ancora il 20% delle quote e nonostante questo ha grosso potere decisionale di fatto quindi è per questo che ci riferiamo a TikTok come applicazione cinese anche se dal punto di vista meramente formale la cosa è piuttosto discutibile perché? perché la holding ByteDance ha sede alle Cayman l'uomo cinese che l'ha fondata possiede alla fine solo il 20% delle quote e la restante parte è divisa fra diversi attori un altro 20% è posseduto dai dipendenti di TikTok che sono di tutto il mondo ce ne sono molti anche americani e il grosso il 60% invece è posseduto dai investitori istituzionali fondi di investimento che sono anche qui in gran parte americani quindi è un'azienda di fatto che ha investitori azionisti che provengono un po' da tutto il mondo però è nata in Cina da un imprenditore cinese e quindi ByteDance è cinese in realtà ByteDance possiede tutta una serie di aziende perché il TikTok che usiamo noi non è mica lo stesso che usano in Cina sono proprio aziende diverse entrambe possedute da ByteDance ma usano la stessa tecnologia per il resto sono aziende separate su questo devo essere molto chiaro ci sono molte aziende nel mondo che si chiamano TikTok c'è una TikTok in Inghilterra ce n'è una in America una in Giappone una a Singapore insomma come è normale quando si ha a che fare con le multinazionali la casa madre comune però è questa ByteDance con la composizione azionaria che vi ho appena raccontato ah ecco fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente se queste cose le conoscevate già o se vi sembra utile approfondire il tema ora che cosa succede? succede che gli americani abituati ad avere la proprietà di praticamente tutte le piattaformi digitali come vi ho fatto vedere poco fa si rendono conto che questo corpo estraneo cinese comunque interessa almeno a 100 milioni di americani perché tanti sono gli americani che utilizzano TikTok e questo genera della preoccupazione che si traduce in preoccupazione per la sicurezza nazionale è una cosa grossa la sicurezza nazionale e come fa un'applicazione di balletti a mettere in pericolo la sicurezza nazionale? la risposta sono i dati siccome questa applicazione è notoriamente molto brava ad acquisire informazioni sulle persone che la utilizzano la preoccupazione riguarda i dati degli utenti e siccome il fondatore dell'applicazione è cinese e l'applicazione anche se a sede alle Kaiman di fatto è cinese allora questo significa che l'applicazione è brava ad acquisire i dati degli utenti l'applicazione è cinese uguale i dati dell'applicazione finiscono in mano al governo cinese che li usa contro di noi questo è l'assunto di base che è attenzione anche verosimile però arriviamoci per gradi apro solo una parentesi sulla questione dei dati senza dubbio è importante non voglio sminuire la sicurezza dei dati è importante averli sotto controllo e metterli al sicuro ma vorrei anche mestamente dire sapendo di attirarmi molte critiche che la questione dei dati è senza dubbio da molto tempo molto gonfiata voglio dire sapere quanto tempo vi soffermate sul video di un tipo piuttosto che un altro è molto utile a TikTok per farvi vedere i video che vi piacciono di più ma ecco qualcuno è convinto che queste informazioni possano servire per farvi il lavaggio del cervello con la propaganda e convincervi a votare una persona che normalmente non avreste votato o prendere chissà quali decisioni assurde ecco è stato abbastanza facilmente dimostrato già in passato che non è così già si è provato in altri casi a dare la colpa a piattaforme o aziende vedete il caso di Cambridge analitica per un risultato politico che all'establishment non piaceva vedi l'elezione di Donald Trump del 2016 oppure la Brexit dello stesso anno ciò non togli che comunque sia legittimo che un paese abbia delle preoccupazioni circa i dati dei propri cittadini e quindi su questo non c'è nulla da dire già sotto l'amministrazione Trump si erano sollevate queste questioni e questi problemi e infatti da allora TikTok negli Stati Uniti i dati li fa passare sotto un'altra azienda un'azienda americana quindi un'azienda di cui ci si può fidare che fa da garante per questi dati questa azienda si chiama Oracle Oracle quindi garantisce delle regole per accedere a questi dati che rendono tranquilli gli americani o almeno così dovrebbe essere perché in realtà oggi si torna prepotentemente a parlare di un possibile ban di TikTok ora un ban è una cosa seria una cosa grave significa che c'è la possibilità che il governo americano decida di cancellare questa applicazione dal suo territorio non come si parla in Europa per ora di farla disinstallare ai funzionari pubblici dai telefoni utilizzati per la loro attività lavorativa no qui si parla proprio di cancellare l'applicazione dall'App Store dell'iPhone e dal Play Store di Google e di renderla inaccessibile negli Stati Uniti quindi è una cosa grossa una cosa che riguarda tutti i cittadini le motivazioni di questa minaccia che l'amministrazione Biden fa nei confronti di TikTok risiedono sempre nella stessa cosa la sicurezza di questa applicazione la sicurezza dei dati la sicurezza dallo spionaggio cinese la sicurezza dalla propaganda del governo di Pechino il problema è che tutte queste sono presunzioni si presume che TikTok possa essere pericolosa perché TikTok ha un fondatore cinese che ne detiene ancora il 20% non c'è non c'è stata fino ad oggi un'evidenza non si può dire è poco sicura per quel motivo abbiamo scoperto quella falla o quel modo di sfruttare i nostri dati e passarli al partito comunista cinese sono solo supposizioni tant'è che adesso l'amministrazione americana sta portando avanti la minaccia definitiva ed è messa in questi termini o TikTok LLC che sarebbe l'azienda americana che rappresenta TikTok negli Stati Uniti recide i suoi legami con ByteDance l'azienda in parte cinese casa madre oppure noi le impediamo di operare nel nostro territorio Biden vuole quindi che ByteDance esca dalla proprietà di TikTok US altrimenti si chiude tutto è questa la richiesta dell'amministrazione americana il problema qui è solo uno che dal punto di vista della sicurezza non cambierebbe nulla se ByteDance vendesse le quote di TikTok LLC non cambierebbe nulla ci sarebbe comunque il rischio se questo è il caso che quei dati fluiscano verso la Cina non fa differenza la proprietà fa differenza la gestione e il trattamento dei dati che tra parentesi per quel che riguarda gli Stati Uniti sono già sotto l'occhio vigile e la tutela di Oracle in sostanza gli americani stanno facendo con TikTok ciò che gli europei stanno facendo da anni ormai con le piattaforme americane certo con violenza molto diversa ma di fatto stanno facendo la stessa cosa e cioè stanno cercando di mettergli bastoni fra le ruote perché quella azienda privata per loro non rappresenta l'azienda rappresenta una lotta commerciale con una potenza estera da cui non vogliono essere dipendenti con la giunta che gli europei e gli americani comunque sono partner e alleati e quindi certo si tirano delle mazzate ma lo fanno tutto sommato con un fondo di rispetto e nella speranza di poter perseguire un reciproco interesse nonostante l'Europa sia sempre sul chi va là mentre i americani e i cinesi sono anche sempre di più nemici possiamo utilizzarla questa parola non ci deve spaventare perché è esattamente quella la direzione che il mondo sta prendendo e quindi chiaramente ci vanno giù molto più duri e molto più pesantemente ora conoscendo i miei polli so già che arriverà il genio della lampada di turno e mi spiegherà che ma in Cina le applicazioni americane le bloccano da sempre bisogna usare le VPN per collegarsi a Facebook e a Whatsapp fratello io ti sono vicino però qua non siamo in Cina qua siamo nel mondo libero ti ricordi una volta si cantava keep on rocking in the free world questa era la metà libera del mondo quella che si basava sullo stato di diritto sulle libertà garantite compresa quella di impresa sulla presunzione di innocenza e l'onere della prova in capo a chi fa le accuse era una società delle garanzie dei diritti quindi a me di quello che fa la Cina francamente interessa poco a me interessa molto di più quello che facciamo noi ma si sa non c'è da stupirsi quando ci si muove verso uno scontro diretto speriamo non militare ma senza dubbio scontro sarà ecco che le garanzie anche della metà del mondo libero saltano e io uso proprio lo stato di salute di queste garanzie per vedere quanto siamo lontani da una situazione catastrofica e di scontro con le altre parti del mondo un po' come l'orologio atomico che misura la distanza dell'umanità dal disastro nucleare io palpo le garanzie dello stato di diritto dei paesi dell'occidente più queste vengono meno più si svuotano più diventano aleatori e più evidentemente mi rendo conto che siamo vicini a qualcosa di brutto poi questo non significa che ci finiremo dentro però significa che stiamo scherzando con il fuoco ma detto questo si arriverà per davvero al ban di tiktok io questo non ve lo so dire però posso dirvi una cosa non mi stupirebbe non mi stupirebbe che avvenisse negli Stati Uniti e che a ruota venisse deciso ugualmente anche in Europa certo è una cosa grossa mi rendo conto che siamo di fronte a qualcosa di molto pesante anche come ripercussioni diplomatiche ma d'altra parte i tempi sono quelli che sono e c'è comunque da dire che queste aziende sono strategiche dal punto di vista economico e commerciale e anche ovviamente dal punto di vista della sicurezza ma questo io lo metto in secondo piano perché credo che sia in secondo piano certo se succede è l'ora che ci iniziamo a preoccupare veramente e veramente iniziamo a prendere precauzioni per ciò che potrebbe succedere dopo perché con una mossa di questo tipo potrebbe succedere di tutto e la Cina certamente risponderebbe in qualche maniera e da lì sapete le escalation sono imprevedibili vorrei anche dire a tutti i tecnici gli informatici gli svanettoni i nerd all'ascolto che avete ragione lo so cosa state pensando nessuno può bloccare l'internet nessuno può bloccare il web vero voi le vostre triangolazioni le vpn nei mille modi che avreste per connettervi a tiktok però purtroppo non servirebbero a nulla perché con un blocco negli stati uniti ed eventualmente anche in europa queste aziende semplicemente chiuderebbero i battenti blocco significa che se lo vogliono in brevissimo tempo l'azienda non è più in grado di operare l'applicazione viene rimossa dagli store non è più accessibile e a quel punto non può vendere pubblicità quindi non può pagare i propri dipendenti non può far fronte ai costi chiude e fallisce e i vostri workaround per riuscire a raggiungerla non servono a niente perché a quel punto non ci sarà più nulla da raggiungere qui stiamo parlando di economia di politica e di geopolitica non certo di tecnica informatica che assolutamente non conta niente in questa discussione bene spero di avervi dato un quadro interessante fatemi sapere qua sotto se queste cose le conoscevate e ditemi se vi sono stato utile ci vediamo presto grazie a tutti grazie a tutti